I tre posti di Milano che mi hanno segnato sono tutti nel mio quartiere, grosso modo, e sono il Lido di Milano, il Monte Stella e il centro commerciale Buonola. Tre artisti con i quali vorrei collaborare... Jay-Z, Kendrick Lamar e Billie Eilish. Tra le superclass classiche in cucina, beh, io non sono proprio la persona più adatta a cui affidare il compito di cucinare, però pollo alle mandorle, torte tipo pere e cioccolato, un fenomeno, solo quella so fare, molto bene, ma so fare anche molto bene il pancake al caffè.